L'anno zero. I centri per l'impiego calabresi non sono affatto pronti a gestire il reddito di cittadinanza. Si fanno i conti con carenze d'organico e lavoro che non c'è. L'assessore regionale Robbe chiede un incontro ministeriale. Weekend sugli sci. Il maltempo dà tregua ma le temperature rigide conservano la neve. Si annuncia un fine settimana da tutto esaurito in Sila. Problemi alla viabilità sulla 107 Paola Sanfili a causa di una frana. Il tour di Boccia. Il candidato alla segreteria del PD fa tappe in Calabria. L'incontro con i precari della SACAL e sulle disgrazie di Oliverio dice serve cambiare la classe dirigente. Calabria criminale. Faida del Re Ventino la lettera dal 41 bis inviata alla dirglia di Catanzaro. Nel Vibonese invece le rivelazioni di Manuel Emancuso. Due boss dovevano morire. Nella piana invece Francesco Trunfio racconta la ferocia dei piromalli. A lezione con E.T. Una giornata speciale per gli studenti del Vespucci di Vibomarina che incontrano il piccolo alieno nato dal Geno e gli effetti speciali Carlo Rambaldi. La figlia del premio Oscar, Daniela, porta in giro per il mondo il messaggio d'amicizia del papà. Buon venerdì da Alessio Bonpasso e bentornati alla nostra informazione. Partiamo dai problemi legati all'avvio in Calabria del famigerato reddito di cittadinanza. Come sapete è strettamente legato ai centri per l'impiego. Manca il personale, manca soprattutto il lavoro. A lanciare all'allarme l'assessore regionale a ramo Angela Robb che ha chiesto un incontro in sede ministeriale. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza in realtà ancora siamo in attesa di capire come verrà gestito e come vorranno rapportarsi con i centri per l'impiego. Noi possiamo muoverci rispetto a quello che si faceva in ordine al rei ma per altre cose in questo momento, a parte la bozza di decreto, non abbiamo altro. Slitta la prossima settimana il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare il decreto sul tanto atteso reddito di cittadinanza. Un sostegno economico per chi non lavora di 780 euro ma anche un ponte verso il mondo del lavoro che secondo le intenzioni del governo sarà corrisposto solo dopo l'iscrizione al centro per l'impiego competente per l'area di appartenenza. Sto seguendo un po' in tv, speriamo che vada bene e che lo danno a chi ha bisogno davvero. Speriamo che va avanti, cioè come hanno detto, almeno chi non ha il lavoro ha la possibilità di trovarlo oppure in qualche modo si aiutano le persone. Ma a quanto pare la Calabria non è ancora pronta e i centri per l'impiego che nella nostra regione sono 14 non sono nelle condizioni di affrontare una nuova mole di lavoro. Un problema che non riguarda solo la Calabria è che nei giorni scorsi è stato affrontato a Roma da tutti gli assessori al lavoro regionali. Per questo motivo abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro un incontro urgente per capire al di là delle voci, al di là delle bozze che circolano, quale è l'orientamento del Ministero per consentirci di organizzare gli uffici. Uffici che nel frattempo continuano a fare i conti con un organico sottodimensionato che probabilmente non potrà reggere all'ondata dei cosiddetti cercatori di reddito. Solo nella provincia di Catanzaro, ad esempio nei tre uffici del capoluogo di Soverato e la Mezzia Terme, i dipendenti sono in totale 49, dove ciascun operatore si trova a gestire 1.700 iscritti. Cifre significative se si considera che a livello nazionale il dato è di un operatore ogni 114 disoccupati. Era già stato individuato un piano nazionale per tutti i centri per l'impiego che aveva valutato la necessità di un'implementazione di oltre 1.000 persone da distribuire in tutti i centri per l'impiego d'Italia. Io ho chiesto un'ulteriore implementazione di figure, circa 200 persone. E intanto nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l'assessore regionale al lavoro e i responsabili dei diversi uffici che per molti calabresi e non giovani e meno giovani rappresentano ancora una speranza. In generale non c'è lavoro e vediamo se riusciamo a fare qualcosa, perché vive ancora con i miei e vorrei formare una famiglia ma non è possibile. Io sto accompagnando un ragazzo che praticamente è ospite presso il centro di accoglienza di Guardavalle dove io lavoro. Si è iscritto perché lui dovrebbe fare garanzia giovani. Rossella Galati per la CNews24. Temperature rigide e neve ma il maltempo per fortuna da una teregua si preannuncia un fine settimana da tutto esaurito nelle località sciistiche, ma non mancano i classici problemi alla viabilità. I disagi maggiori determinati dall'ondata di gelo che negli ultimi giorni ha investito l'intera provincia di Cosenza non sono causati dalla neve ma dalle frane. Uno smottamento lungo un costone affacciato sulla statale 107 ha determinato la chiusura al traffico dell'importante arteria di collegamento con la fascia tirrenica tra gli svincoli di Paola e San Fili. L'interdizione al traffico va avanti da ieri sera quando dal fianco della collina a pochi chilometri dalla città di San Francesco si sono staccati fango e pietrisco, mettendo a repentaglio l'incolumità degli automobilisti. Si lavora alla messa in sicurezza del tratto interessato, ma anche al monitoraggio di altri segmenti e a rischio. Forti i disagi per gli spostamenti. Per raggiungere la costa, l'alternativa è l'autostrada del Mediterraneo con uscita a Falerna per il lato sud e la statale 283 delle Terme per il lato nord, con notevole aumento delle distanze chilometriche e dei tempi di percorrenza. In mattinata ha smesso di nevicare anche oltre quota mille metri. Gli addetti dell'ANAS e della provincia hanno lavorato sodo per evitare intralci alla viabilità. In particolare l'ente di piazza 15 Marzo ha impiegato 35 mezzi tra spargi sale e spazzaneve, coprendo circa 1300 chilometri di strade, con 55 trautisti ed operai. In Sila si preannuncia un fine settimana rigido ma soleggiato. Ideali le condizioni per praticare gli sporti invernali, con piste aperte negli impianti di risalita di Camigliatello e Lorica ed il boom di presenze turistiche, preannunciato dalle prenotazioni già pervenute alle strutture ricettive. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Siamo alla politica, scuola, lavoro e ambiente. Sono questi i temi al centro della mozione del candidato alla segreteria del Partito Democratico Francesco Boccia, che ha iniziato dalla Mezzia il suo tour calabrese, incontrando i precari della SACAL e ha parlato anche del governatore Oliverio. Iniziato dalla sede regionale del PD alla Mezzia Terme, il tour calabrese di Francesco Boccia, candidato alla segreteria dei Democrat con la mozione a porte aperte. Qui ha incontrato una delegazione di lavoratori precari della SACAL, lavoratori stagionali anche da 13 anni, in lotta per riuscire ad avere una stabilizzazione. E' bene trasformarli in lavoratori a tempo indeterminato, poi si può discutere se servono tutti in quel sito e per quel tipo di attività, ma è evidente che potrebbero anche essere utilizzati per altre attività. Scuola, lavoro, ambiente, i temi principali portati avanti da Boccia. Io sono tra quelli che vuole cancellare il Jobs Act e voglio cancellare anche il decreto di Maio. Accanto al lavoro lo Stato sociale deve essere ripensato sulla scuola, infine l'ambiente. Noi dobbiamo essere quelli che difendono questo patrimonio straordinario che il Signore ci ha lasciato. Abbiamo un Presidente della Regione che in questo momento è indagato a un obbligo di dimora, in tanti chiedono le sue dimissioni ed è appunto un governatore del Partito Democratico. Io sono convinto che si sia chiuso un ciclo politico anche in Calabria come lo si è chiuso in altre regioni del Mezzogiorno e questo congresso serve anche a far emergere una nuova classe dirigente. Coordinatrice regionale della mozione Alessia Bausone. L'unica mozione congressuale che affronta il tema dei diritti civili in maniera approfondita, affronta il tema dei territori e della parità di genere dei territori. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Intanto c'è l'ennesimo comune sciolto per mafia in Calabria, si tratta del comune di Careri nel Regino. La decisione è stata adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del titolare dell'interno Matteo Salvini che ha fatto proprie gli esiti delle attività ispettiva avviata su impulso del prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. Il municipio è atteso l'insediamento della commissione straordinaria che guiderà l'ente locale per 18 mesi salvo proroghe. Ritorniamo adesso all'indagine Raventinum che ieri ha condotto come ricorderete al fermo di 12 persone a diverso titolo coinvolte nella scia di sangue culminata con l'omicidio dell'avvocato Pagliuso. Tra le carte anche una lettera scritta dal 41 bis e destinata alla procura di Catanzaro in particolare all'allora aggiunto Giovanni Bombardieri, oggi procuratore capo di Reggio Calabria. Per prima cosa voglio ringraziarvi per l'eccellente lavoro che state svolgendo sull'indagine di mio fratello. È mio dovere comunicarvi alcune notizie che potrebbero esservi utili, soprattutto al sottoscritto. Impugna carta e penna Domenico Mezzatesta dal carcere duro dove è detenuto, condannato a 20 anni di reclusione per il duplice omicidio di Francesco Iannazzo e Giovanni Vescio avvenuto nel bar del Reventino il 19 gennaio del 2013. Per quegli omicidi Pino Scalise, ritenuto a capo dell'omonima Cosca, aveva giurato vendetta al padre di Giovanni Vescio proprio durante i funerali del figlio. E scrive all'ex procuratore aggiunto di Catanzaro, Giovanni Bombardieri e al sostituto Paolo Petrolo. I nipoti dalla Calabria gli avevano fatto visita al carcere informandolo che gli Scalise meditavano vendetta. «Stanno cercando dove si è trasferita mia moglie con mio figlio Costantino», scrive il boss detenuto, «perché vogliono farmela pagare. Quando uscirà mio figlio Giovanni dal carcere, dicono che lo bruciano, il prossimo sarà mio fratello Salvatore». Temeva per i suoi congiunti Domenico Mezzatesta, che dal carcere però continuava a comunicare all'esterno attraverso la moglie Ionela Tutuiano, intanto trasferitesi in Piemonte per sfuggire alla sete di vendetta della Cosca Rivale. Era lei a curare i rapporti con i familiari rimasti in Calabria, i quali esprimevano preoccupazione per il terrore seminato a decollatura dagli Scalise. Comunque loro stamattina qua gli sciacalli squadriavano, raccontava Giovanni Mezzatesta, nipote di Domenico con la zia Ionela. Lui, Luciano, è passato con la macchina come un pazzo e insieme zia e nipote si auguravano che il killer di Gregorio Mezzatesta e Francesco Paiuso cedesse al rigore del carcere e collaborasse, rivelando i mandanti delle due esecuzioni. «Questa è la chiave di tutto», diceva Giovanni alla zia intercettato. «Se ne devono liberare uno per prenderne 50, la legge conviene, ma conviene pure a lui, chiaramente, questo già a due ergastoli». Luana Costa per la CNews24. Un'altra notizia di cronaca, cartucce di fucile ed una tannica di benzina sono state ritrovate a Soriano Calabro, nelle preserre Vibonesi, su un cantiere dell'impresa edile Chiaromonte, impegnata nella ristrutturazione di alcuni alloggi di edilizia popolare. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini del caso. Il titolare della stessa impresa, in passato, aveva già denunciato coraggiosamente alcuni tentativi di estorsione ai suoi danni. La cronaca giudiziaria ci consegna adesso i nuovi verbali del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, il primo storico pentito del casato mafioso di Limbadi e Nicotera, che autore di scottanti rivelazioni per l'andrangheta vibonese e non solo. Parla Emanuele Mancuso, il rampollo del clan di Limbadi e Nicotera, figlio di Luni l'ingegnere. Ai magistrati della procura antimafia guidata da Nicola Gratteri, in particolare ai PM Antonio De Bernardo e Anna Maria Frustaci e ai carabinieri di Vibo Valencia, il trentenne collaboratore di giustizia, nelle sue inedite dichiarazioni, spiega che ci sarebbero stati due boss del vibonese condannati a morte. Il primo era Peppone Accorinti, il capo bastone di Zungri legato a doppio filo con Imancuso, che era nel mirino di Leone Soriano, vertice dell'omonima famiglia di Pizzini di Filandari ed è scritto dal giovanissimo pentito come un criminale psicopatico. L'altro, secondo i verbali depositati agli atti del processo Nemea, era lo stesso Soriano, obiettivo invece proprio dei Mancuso. Anzi, a Leone da Pizzini, metteva verbale, quei carabinieri che voleva far saltare in aria con una bomba, arrestandolo qualche mese prima, avevano addirittura salvato la vita. Emanuele racconta tante cose, dei traffici di droga col vibonese, regine del napoletano, spiega come Giuseppe Soriano avesse riportato sul territorio l'eroina, racconta anche della presenza di una presunta talpa tra gli apparati delle istituzioni che gli avrebbe consigliato di muoversi con circospezione in alcuni ambienti. E tra l'altro ribadisce il ruolo di vertice, non solo in seno al clan Mancuso, ma anche nel contesto degli equilibri geomafiosi del Vibonese, dello zio Luigi, il boss che saldato il conto con la giustizia, dopo lustri di carcere scontati al 41 bis, è tornato da sette anni ormai a piedi libero. Pietro Comito per la CINUS24. Da un collaboratore di giustizia ad un altro, ci spostiamo nella piena di Gioia Tauro, il clan Piromalli. E qui è padrone, lo ribadisce il nuovo pentito Francesco Trunfio, che racconta della particolare ferocia di questa famiglia d'Indrangheta. Potenti, feroci, padroni incontrastati di Gioia Tauro. Questo è in estrema sintesi il quadro che il nuovo collaboratore di giustizia Francesco Trunfio traccia del clan Piromalli, un clan del quale il pentito parla quasi con terrore. Conoscendo l'altissimo profilo criminale delle persone di cui intendo parlare, afferma, temo che già in un periodo antecedente a quello in cui i verbali delle mie dichiarazioni saranno resi noti, i Piromalli possono essere messi al corrente della mia collaborazione. Il giudizio che Trunfio dà della cosca della città del porto è netta e precisa. Posso affermare con certezza che tutto ciò che nel corso degli anni è accaduto a Gioia Tauro è sempre stato deliberato o avallato dai Piromalli. Il pentito quindi non ha dubbi che si tratti di una delle cosche più feroci e potenti del mandamento tirrenico. Trunfio traccia un preciso organigramma della cosca. I Piromalli sono suddivisi in vari rami familiari, anche se quello più autorevole e importante criminalmente è quello che fa capo a Giuseppe Piromalli Facciazza, al figlio Piromalli Antonio, rappresentato a livello criminale da Sciacca Francesco. Il ramo imprenditoriale gestito da Comerci Nicola, i Bagalacor di Francesco. C'è poi il ramo di Gioacchino e Nino Piromalli, fratelli di Pino, ma hanno un altro modo di operare perché a loro interessano solo i soldi. Il figlio di Don Nino Piromalli e Gioacchino Piromalli detto l'avvocato, che gestiva il termo valorizzatore. I magistrati sondano le sue conoscenze in merito a relazioni e alleanze con le cosche del territorio, da Laureana di Borrello, nelle Preserre, fino a Taurianova, nel cuore della Piana di Gioia Tauro. Chi porta il cognome Piromalli non si espone personalmente nei rapporti con le altre articolazioni territoriali dell'Andrangheta. I Mazzaferro, sottolinea Trunfio, avevano però rapporti con le altre cosche e i rapporti implicano anche l'aiuto durante la latitanza. È il caso di Giuseppe Crea di Rizzicone e dell'ergassolano Giuseppe Ferraro di Oppido Mamertina o del boss di Taurianova, Ernesto Fazzalari, catturato nel 2016 dopo vent'anni di clandestinità. Tre verbali, quelli firmati da Trunfio, che danno avvia alla sua collaborazione. Un percorso che solo all'inizio e dietro quelle 18 pagine omissate ci potrebbero essere importanti novità sulle dinamiche criminali della potente cosca di Gioia Tauro. Francesco Altomonte per la CNews24. I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valencia sono intervenuti intorno alle 11 stamattina per estinguere un incendio nella frazione Fitili di Parghelia. Per causa in corso di accertamento, 10 vetture presenti all'interno di un deposito di auto sono state interessate appunto da un incendio. Sul posto è intervenuta una squadra operativa del distaccamento porto ed un automezzo di supporto della sede centrale. L'operazione di spegnimento si sono concluse solo pochi minuti fa. A Vibo Marina, all'istituto comprensivo Vespucci, si è rivissuta la magia di E.T., il piccolo alieno nato dal genio degli effetti speciali, premio Oscar Carlo Rambaldi. La storia di un'amicizia tra un alieno e un bambino, una storia che a tratti commuove, a tratti diverte. Un film che ha segnato intere generazioni e che continua ad emozionare. Oh mio Dio! E ti telefono casa, casa! La pellicola è stata trasmessa nell'aula magna dell'istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina, davanti a un centinaio di bambini che hanno avuto la grande opportunità di vedere da vicino la sagoma dell'alieno che ha ispirato Steven Spielberg nel film E.T., l'Extraterrestre, vincitore di quattro premi Oscar, tra cui quello per i migliori effetti speciali assegnato a Carlo Rambaldi. Fu quest'ultimo il creatore del simpatico extraterrestre ed è nel suo nome che oggi la fondazione Carlo Rambaldi, presieduta dalla figlia Daniela, porta nelle scuole il progetto l'alieno e l'amicizia. Carlo Rambaldi è nato in una provincia e con il suo genio, perché di questo si parla, poi è riuscito a portare questo talento, a sviluppare questo talento prima in Italia e poi all'apice è riuscito ad arrivare ad Hollywood in sei anni vincendo tre premi Oscar per gli effetti speciali. Poi da Hollywood ha deciso di trasferirsi alla Mezzia Terme. Esattamente. L'iniziativa in partnership con il nostro network si è svolta nella scuola divenuta simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza. Che non si deve giudicare una persona se nera, se cinese. Essere diversi significa essere unici nel loro genere, infatti ognuno di noi è diverso perché è magnificamente unico. Il loro modo di sentirsi vicini adetti sta a significare che ancora noi abbiamo grande speranza che il mondo possa migliorare. Il progetto della Fondazione Rambaldi, ha spiegato il direttore Giuseppe Lombardi, proseguirà con una serie di iniziative rivolte agli amanti del cinema e degli effetti speciali. A Vibo Valencia troverete non soltanto la mostra dedicata a Carlo Rambaldi, gli Oscar e TI, ma anche 17, 18 e 19 gennaio i più grandi effettisti speciali italiani che verranno qui a Vibo a fare delle lezioni dimostrative per tecniche di effetti speciali a confronto e quindi sarà un'esperienza unica nel suo genere, considerato che sono lezioni assolutamente gratuite. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. Nel frattempo potrebbe esserci un'altra strada per tentare di restituire alla Calabria il tribunale di Corigliano Rossano, come sapete, soppresso nel 2013. Mille e uno modi per riportare un tribunale nella Sibaritide. Gli avvocati, più che la politica, stanno tentando davvero ogni strada per riaffermare il principio della giustizia in un territorio clamorosamente scippato del suo più alto presidio di Stato. La strada che ora si tenta di battere è quella dell'emergenza, facendo leva sulla proroga concessa nel 2013 ai tribunali abruzzesi colpiti dal terremoto e rinnovata di recente dal governo fino al 2021. È una misura che la dice lunga perché ovviamente allo Stato l'emergenza è cessata, quindi non avrebbe senso questa proroga al 2021. Diventa doveroso da parte soprattutto della nostra rappresentanza parlamentare intervenire per dare un senso a questo tipo di proroga che è stato fatto. Cioè se è una proroga tecnica oppure sottende una rivisitazione auspicabile per ciò che attiene anche la revisione dell'intero impianto della geografia giudiziaria. Quello che si chiede ovviamente è un sussulto dei parlamentari pentastellati del territorio che potrebbero perorare questa causa dal momento che è venuta a decadere anche l'ipotesi da prima sostenuta dal ministro Bonafede di istituire degli uffici giudiziari di prossimità. La verità probabilmente è un'altra, è che ci sono burocrazie ministeriali che frenano questo processo o questo slangio che i 5 Stelle avevano fatto anche nel contratto di governo di rivedere la geografia giudiziaria. Il Castro Villari è assolutamente inadeguato, quindi credo che vada istituito ex nobile il Tribunale. Non parliamo più di riapertura del Tribunale di Rossano. Marco Lefosse per la Cineus 24 La musica e lo spettacolo a Vibo Valencia è stata la notte del flamenco. Il pubblico di Vibo Valencia si è lasciato trascinare dal ritmo del flamenco per il terzo appuntamento dei concerti del giovedì, la rassegna organizzata dal Conservatorio Torre Franca volta a valorizzare i propri talenti anche con l'incontro sul palcoscenico con i grandi della musica europea ed internazionale. Stavolta è toccato al grande chitarrista Juan Lorenzo esibirsi nell'auditorium dello Spirito Santo in un repertorio tradizionale e moderno della musica flamenca. Prima una fase concertistica, poi una fase con il ballo uno spettacolo coinvolgente che è esploso nel finale condiviso con gli allievi della masterclass di due giorni tenuta dallo stesso maestro Juan Lorenzo che ha svelato poi la possibilità che nasca proprio a Vibo la seconda cattedra in Italia nello stile a cui ha dedicato la sua carriera. L'idea è di fare proprio una cattedra di chitarra flamenca con il maestro Cambarelli perché mi sembra molto accreditato anche perché si è diplomato al conservatore di Terni che per ora è l'unica e prima cattedra di chitarra flamenca proprio riconosciuta perché le cattedre nel mondo sono pochissime solo tre in Spagna, una in Olanda e a questo punto due in Italia. Una sorta di investitura dal maestro all'allievo vibonese. A Granada mi sono innamorato di questo stile, di questa cultura perché più che solo musica è proprio una cultura. Talento perfezionato si negli anni con la volontà adesso di portare la cultura e la musica del flamenco anche in Sud Italia proprio al conservatorio Torre Franca di Vibo Valencia. Erika Consolo per RACI News 24. È tutto, prima di chiudere vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale insieme a tutte le altre sul nostro sito, la ctv.it. Torniamo alle 20 e 30, grazie. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia. La C-News 24, edizione giorno alle 14 e 15 ed edizione sera alle 20 e 30. La C-News 24, la Calabria che fa notizia. La C-News 24, la C-News 24, la C-News 24, e la C-908 e 15 La C-News 24, la C-News 24, la C-Canada di Vibo valori